Salve a tutti ragazzi eccoci qui oggi con un nuovo video ragazzi anche oggi siamo qui su Yu-Gi-Oh 2 Links E oggi ragazzi probabilmente sentirete un po' di rumori perché stanno facendo dei lavori qui vicino casa E spero che non ci diano troppo fastidio Comunque come avete visto dal titolo si questa qui è un video dove faremo vedere un po' una decklist E questa decklist è stata puramente inventata da me ed è basata sul licantropo Infatti è la decklist del deck licantropo che io così ho soprannominato Anche se devo essere onesto non è che sia questa bestialità di deck perché comunque è molto semplice Ed è vabbè ho sempre il telefono scarico come al solito comunque ed è veramente molto così basilare come deck Lo faccio e lo porto oggi perché un mio iscritto me l'aveva chiesto ieri nei commenti E comunque aveva bisogno di un aiuto per qualche deck rituale Quindi diciamo così questo deck per iniziare con qualche deck rituale va più che bene Anche perché se volete fare per esempio il deck abbandono già risulta un po' più complicato Infatti sto portando My Valentine a livello 35 per avere la Lady Arpia quella che potenzia i mostri di tipo vento Ma di questo ne parleremo in altri video Andiamo a vedere questa decklist che è composta da 22 carte di mine deck e 0 nell'extra deck Il potere è il potere dell'oscurità usato con Yami Yugi dove appunto utilizziamo la carta Yami Che potenzia tutti i mostri tipo incandatore e demone Allora la carta basilare del deck ovviamente è Licantrupo Una carta rituale che è di 6 stelle ed ha un 2400 di attacchio e un 1800 di difesa Il suo effetto quindi non è molto forte ma il suo effetto è molto buono Quando infligge danni infligge 200 danni extra per ogni mostro normale nel nostro cimitero Quindi considerando che conteniamo ben 2, 4, 6, 8, 9 mostri normali Sono ben 1800 punti di danno solo così da effetto Anche facendo tipo 100 punti di danno distruggendo un mostro In più ne facciamo 1800 se ovviamente abbiamo tutti i mostri al cimitero Poi come supporto abbiamo un uccello sonico e un Senju dalle mille mani Che l'uccello ci fa prendere la carta rituale che ovviamente è la magia della sintesi Che serve per evocare appunto il Licantropo E comunque Senju dalle mille mani ci fa prendere il mostro rituale Cioè uno dei due Licantropi Quindi ci sta ben poco da dire L'unica cosa Senju viene depotenziato dall'effetto della carta terreno Quindi diventa un 1200 E l'unica cosa negativa per il resto Uccello sonico resta del 1400 che è Quindi non sono fortissimi come punti di attacco Però ci servono come sercini E quindi velocizzano il deck E ci aiutano davvero davvero tanto Come mostri ho voluto mettere il Fantasma dei sogni scomparsi Perché è un 1800 di difesa e diventa un 2000 di difesa ed è quindi molto buono Ed è un 4 stelle di tipo normale e di tipo oscurità normale ed è demone È una super rara che si poteva prendere tramite l'evento di Bakura E anche Bestia di Talwar si poteva prendere sempre tramite quell'evento sconfiggendo Bakura E infatti questo qui è molto buono perché l'ho sostituito a una vecchia carta che utilizzavo Che sempre era 6 stelle di tipo normale ma era macchina Invece questo qui è un 2004 che quindi diventa un 2006 grazie alla carta terreno Poi ho voluto mettere Forziere Mangia Uomini perché è un 1600 che diventa quindi un 1800 Perché è demone, è sempre normale, 4 stelle Neolo Spadaccino Magico perché è un 1700 e quindi diventa un 1009 E poi sempre un Ryurashin potenziato perché diventa un 1800 E una Bambola Mortale che diventa comunque un 1800 Questi qui li potete variare con altri mostri Io ho messo questi perché mi danno un buon supporto come punti di attacco E sono tutti normali, mostri normali di livello 4 Che vanno in combo con Cuore del Perdente Che cosa dice? Quando noi peschiamo la nostra pescata normale E peschiamo un mostro normale Lo riveliamo al nostro avversario e peschiamo un'altra carta Quindi se ci va bene praticamente noi ci possiamo pescare tutti i mostri normali Che abbiamo nel deck in un unico turno E questo ragazzi è una cosa che ci fa molto molto comodo Vanno anche in combo con Venditori di Battaglia Questa carta dice Una volta durante l'end pace del turno di ogni giocatore Quel giocatore può evocare tra un'evocazione speciale Un mostro normale di livello 4 dalla sua mano Quindi noi praticamente possiamo evocare 2, 4, 6 mostri Specialmente a fine turno C'è uno alla volta per ogni turno Grazie a questa carta qui Lo può fare anche il nostro avversario Ma non tutti giocano mostri normali di livello 4 Quindi abbiamo un ottimo vantaggio In più gioco ordine di carica in 2x Perché sono tutti mostri normali Quindi quale meglio di questa carta ci può stare nel deck Distruggiamo il nostro mostro normale Per distruggere un mostro del nostro avversario Ed è... cioè la carta parla da sola Poi abbiamo un muro a specchio e due mikizure Muro a specchio lo sapete tutti Quando veniamo attaccati di mezzo all'attacco del mostro attaccante Per mantenere la carta sul terreno Ogni turno paghiamo 2000 life points Mikizure quando un mostro viene distrutto Un nostro mostro Possiamo distruggere un mostro sul terreno E... Questo va praticamente in combo con ordine di carica Perché noi facciamo ordine di carica Ci distruggiamo uno dei nostri mostri E possiamo quindi attivare anche mikizure E quindi distruggiamo un nostro mostro Per distruggerne due del nostro avversario Ed è un'ottima combo E va molto bene Quindi passiamo velocemente a fare qualche partita Sono ancora rango bassissimo Perché non ho giocato le rank Quindi andiamoci a fare una partita in rank Almeno non giochiamo contro il computer E... Andiamo appunto a testare questo deck Siamo rango argento E comunque... Questo deck l'ho testato per un paio di ore Perché l'ho fatto stamattina L'ho completato diciamo sì stamattina E l'ho giocato per un paio di ore Anche se non proprio piene E... Gira abbastanza bene come deck Non possiamo lamentarci Nel senso Non è da leghe alte Questo lo dobbiamo dire Perché non vi aspettate che con questo deck Arrivate a chissà che leghe Però vi assicuro che per giocare con i vostri amici O per giocare in dual world Va molto molto bene Comunque è un deck molto molto buono Allora Mano iniziale E... Un po' malaccia Diciamo così Io inizierei ad attivare il nostro forziere E... Setterei ordine di carica E... Avrei preferito qualche mostro in più Però abbiamo venditori di battaglia Che... Già è buona averla al primo turno Quindi Speriamo di pescare qualche mostro in più E vediamo un po' come si evolve la situazione Noi abbiamo comunque giocato un 2000 E abbiamo una carta coperta Che fa veramente paura Il nostro avversario gioca semplicemente un mostro coperto E... Non so Vediamo un po' che cosa ha in mente Lo vedo molto pensieroso Forse... No Non ha niente di particolare Però... Noi abbiamo un 2000 Che potrebbe essere supportato appunto Peccato che abbiamo pescato Uccello sonico E non Senshu dalle mille mani Perché sarebbe stato Veramente ottimo in questo caso Avremmo fatto il licantropo Però va bene lo stesso Perché vedete Comunque anche se è un 1400 Ci fa serciare No questa non la voglio attivare Ci fa serciare una carta E quindi ci fa sfoltire Il nostro deck Senza considerare Che comunque È pur sempre un mostro Che se il nostro primo attacco Va a segno E non abbiamo Problemi Comunque infliggiamo Un buon 1400 Diretto E infatti Il primo attacco è andato bene Un 1400 diretto Al prossimo turno Se lui gioca qualcosa di Buono Usiamo ordine di carica E sono altri 1400 punti di danno Grazie a Uccello sonico Quindi Alla fin fine Per quanto sia un mostro Basso di livello Va comunque in sinergia Con tutto il resto del deck Infatti vedete Lui ha giocato il 1900 Io gli attivo Direttamente ordine di carica Senza neanche Aspettare che lui attivi Qualche altra carta Perché non ne abbiamo Proprio interesse Perché a noi basta Dopo questa mossa Pescare un mostro E praticamente Abbiamo vinto Il duello Sì Stiamo giocando In leghe Basse Però comunque Vinciamo Quindi vuol dire che il deck È comunque buono Ecco Siamo stati molto Molto fortunati Perché vedete Abbiamo pescato Giusto giusto Il mostro Da tributo Che possiamo attivarlo Ed è giusto giusto 2600 Anzi 2800 Perché ci sono due Yami sul terreno Quindi Attacchiamo E vinciamo il duello Però questo per farvi capire Che cosa Che se non giocavo Questo tipo di mostro Che era demone E giocavo il vecchio Mostro macchina Era un 2300 Che non si sarebbe potenziato E non avrei vinto Per pochi life points Invece così Il deck Vedete Ha una buona Sinergia Quindi Ragazzi Io ve lo dico davvero Questo deck Non è sicuramente Da leghe altissime Perché? Perché è un deck Un po' lentino Ci mette un po' di tempo Per ingranare Non è Cioè Stesso l'effetto Del licantro Poi è lento Perché dovete portare I mostri al cimidero Per poi fare un danno E poi Infliggere dei danni extra Non è Molto Molto Semplice E molto veloce Come deck Però È molto divertente Quindi per chi non ha interesse Nel salire di rango O comunque Chi ha altri deck Per salire di rango Questo qui è un deck Sia per iniziare Sia per divertirsi In dual world Facendo Vedete Delle giocate Un po' così Un po' particolari Molto divertenti Per quanto mi riguarda Quindi io Spero che vi sia stato utile Spero che qualcuno di voi Faccia questo deck E mi faccia sapere Cosa ne pensa E come si trova E io davvero Come al solito Vi ringrazio Mi raccomando Iscrivetevi Commentate Condividete questo video Se il video vi è piaciuto Lasciate un like E noi ci vediamo Con il prossimo Bella raga